Metri e dieci per il primato del mondo Niente da fare anche in questo caso per la Berquist Che abbiamo visto, tanto che noi eravamo collegati Ha spostato un po' un segno Un segno, quindi vuol dire che seccherà un punto diverso di stacco In questo ultimo tentativo verso il primato del mondo Ultima semifinale dei 400 femminili Luce di Mara, Teodoro in corsia 1, brasiliana da 51,23 In corsia 2 la bilorussa Ilona Usovic, 51,30 di primato personale In corsia 3 c'è la Gazzella di Norgales, a sud di Sonora Anna Guevara, la mexicana che l'anno scorso è stata la vice campionessa olimpica Campionessa del mondo due anni fa 48,89 di primato personale, che vuol dire anche l'ottavo tempo di sempre al mondo Per una Guevara che quest'anno sta facendo fatica A tenere il passo delle migliori in assoluto E ha avuto anche un po' di problemi fisici Tonic Williams, la campionessa olimpica dell'anno scorso e al fianco della Guevara in corsia 4 Quest'anno 49,69, 49,07 dell'anno scorso alle Olimpiadi dell'Atene In corsia 5 la russa Olesia Zichina, classe 80 50,15 di primato personale assoluto 50,85 quest'anno Attenzione in corsia 6 alla statunitense Monique Anderson Che quest'anno è scesa a 49,96 In corsia 7 c'è Lee McConnell, la britannica da 50,82 di primato personale E in corsia 8 Karen Shinkies, irlandese da 51,06 Qui potrebbero entrare addirittura in 4 Sempre che a tutte riescano a esprimersi al meglio La Guevara, la Tonic Williams, la Zichina e la Anderson Quindi per entrare devono la terza e la quarta Devono correre, lo ricordiamo sotto, i 50 secondi e 99 centesimi Alla portata di questi atleti Alla portata di questi atleti Quindi una serie dove forse A parte la quinta e la sesta sono meno competitivi rispetto alle serie prima Però le prime quattro c'è un quartetto, un poker di atleti di alto livello Per ora la Richard su una spanna Per quello che abbiamo visto nelle prime due serie Vediamo questo, dove ci sono le altre rivali In particolare la Tonic Williams-Darling, la Bahamense Williams in corsia 4 Parte non molto forte, meglio la Zichina in corsia 5 Sì Adesso si fa sotto però Bellissima curva Bellissima curva di Tonic Williams Williams e Zichina insieme alla Anderson Sono le tre davanti Male la Guevara invece decisamente indietro La Guevara rischia, ma sono partite tutte fortissimo A stecca proprio Tonic Williams al comando La Zichina ha perso qualcosa La Anderson fa fatica a tenere il passo della Williams Scatenata Tonic Williams Adesso si tratta però di tenere Guevara in ritardo Però in recupero Guevara che ancora non si scompone Tonic Williams su rettilineo finale Spinge, torna sotto la Guevara di gran carriera Bellissimo recupero della Guevara Gara in recupero della Guevara Che va a prendersi la seconda posizione Tonic Williams vince Attenzione al tempo 49-69 davanti alla Guevara Gran gara di Tonic Williams Gran gara di Tonic Williams La Richards Dovrà correre molto forte Assolutamente sì Vediamo Se ci sono tempi La Berquist La Berquist Kaiser regalaci un sogno 50 tentate per la Guevara Terzo tentativo di primato del mondo Due metri dietro Anche Chonti Howard Tia Hellebaut Tutte lì ad applaudire Sarebbe storico 18 anni dopo la Costa d'Inova Se ha niente da fare Quello più nettamente fallito Ma Casa Berquist È la campionessa del mondo Per la prima volta Nella sua carriera Due metri e zero due Sono stati sufficienti Per vincere il titolo Il primo grande titolo Della sua carriera Una Casa Berquist Che davvero ha passato Le penne dell'inferno Dal punto di vista atletico È tornata alla grande È tornata più competitiva Che mai E dimostra di essere ancora Una donna che nei prossimi Due o tre anni Se le condizioni fisiche Le lo permetteranno Potrà davvero salire Verso quel 2.06 2.07 Perché no 2.10 È un'atleta Che adesso recuperata Può riprendere la marcia Di avvicinamento E magari anche di superamento Nei primi due tentativi Non era stato Non erano Non sono riusciti Però Non era stata indegna 400 Antonio Prima parte della doppietta Dell'alto svedese È completata Addirittura qui hanno piazzato Anche la Green In medaglia di Bronco Due ori Adesso aspettano Stefano Olmo Ovviamente nell'alto maschile Chonti Awa Della novità Ha 20 anni Anzi 21 anni Appena compiuti Prende la medaglia d'argento Non è più una novità Adesso è una realtà Due metri per la terza volta Superati quest'anno Quindi è una donna Su cui fare Ah un grande potenziale L'Award Molto veloce Ecco l'abbraccio Con l'allenatore Ecco Emma Green Che accoppiata ragazzi E dopo la Cluft Un altro oro Ancora dal femminile E va bene Felicissima è la Havad Beh anche perché Due metri anche Quindi Attenzione Anche qui passano Allora La Zikina e la Henderson Passano sia la Zikina Che la Henderson La Zikina è la 50-73 Come la Henderson Quindi le prime quattro Dell'ultima serie E le prime due Delle serie precedenti Questo vuol dire Che le otto finaliste Sono Tonic Williams Anna Guevara Olesia Zikina Monique Henderson Svetlana Pospelova Didi Trotter Sania Richards E Amin Mbak Tiam La Tonic Williams Che abbiamo visto Stasera Per me diventa la favorita Anche rispetto A una Sania Richards Che pure ha Corso abbastanza In scioltezza Però 49-69 È un gran bel tempo Prosegue il giro Di onore Di Chonti Howard Vabbè Questa Ha già versato Parecchie lacrime Di felicità Eccolo qui Il podio completo Emma Green Sale sul gradino Più basso Il podio Migliorandosi di un centimetro Un po' di delusione Per la Ciceroba Un po' di La scuola russa È uscita male Da questa Vabbè La Slesarenko Infortunata Però la Ciceroba Una medaglia Minispot Simon Zolkowski Medaglia d'oro Ai montati